Bene, adesso vediamo invece come texturizzare in maniera molto simile su Blender Ricordiamo che abbiamo un'immagine questa, che è 113 Natural Oak ad esempio e che questa immagine l'abbiamo caricata da un sito nella risoluzione in questo caso 1000x1000, cioè non è incredibile ma per i nostri fini va benissimo e adesso quello che dobbiamo fare è cercare di dentro Blender di capire dove sta la texturizzazione Allora, cercheremo di essere il più semplici possibile quindi introdurremo dei concetti un po' per volta quindi la prima cosa, la texturizzazione in Blender si chiama UV Editing questa è una cosa importante perché dovremmo, andando dentro UV Editing prendere tutto il nostro tavolo, come vedete quando vado in UV Editing abbiamo a sinistra una finestra quadrettata e a destra la nostra scena quello che dobbiamo fare è di usare la scena di sinistra come se fosse della carta da pacchi che poi viene via via incollata, ritagliata in quadrati tipicamente e poi incollata sulla nostra scena quindi in questo caso è come se noi avessimo un'immagine e volessimo incollarla un pezzettino per volta quindi l'immagine, se qui fosse una carta se questo fosse un tavolo, un metro per un metro, come lo è questa sarà, diciamo, uno, due, tre, quattro metri per quattro quindi sarebbe un tendone abbastanza grosso in cui vado a dire, questa faccia la ritaglio da questo tendone la metto lì e così via la differenza rispetto ad avere un tendone o un pezzo di carta effettivo è che questa cosa può essere riutilizzata infinite volte nel senso che posso ritagliare questo pezzo e metterlo qua e poi lo stesso pezzo lo posso ritagliare, ad esempio, e metterlo su una gamba se voglio, insomma, quindi questo ritaglio può essere riutilizzato quante volte ne ho bisogno la ritagliatura di questo pezzo di carta di questa carta modello, chiamavamo una volta e viene chiamata UV Mapping quindi l'UV Mapping diventerà una serie di alcuni le chiamano ragnatele, insomma, o reti che descriveranno come tagliare la immagine di sinistra per ottenere l'effetto desiderato allora, andiamo a prendere l'immagine questa di partenza e vediamo un po' se funziona il riporto direi che non funziona quindi facciamo che aprire un'immagine andiamo sul andiamo, vediamo un po', ci abbiamo il documents, il servo nel downloads 113 natural, la prendo e abbiamo l'immagine di partenza adesso, come vedete, non si vede questa cosa perché per capire com'è mappata effettivamente occorre ad esempio, come è mappata la parte di sopra bisogna essere in edit mode, vedete? e poi, mentre siamo col cursore qua facciamo L, seleziona la parte di sopra e vedete che tutti i cubi sono automaticamente ritagliati da blender 8 questa è una novità rispetto ai blender vecchi in cui bisognava tutte le volte farsi la mano a voi quindi si risparmia un pezzo c'è una UV map che è una croce quindi per sapere la croce a cosa corrisponde basta andare a selezionare clicco qua per selezionare una faccia e vedo che questa faccia qua corrisponde a questo pezzo qua ora, il concetto è che per vedere effettivamente come la ritagliatura si adagia sul nostro tavolo occorre andare qui e abilitare questo che è il rendering se facciamo rendering dovreste vedere che c'è effettivamente aspettate, dunque se seleziono un'altra faccia no, non mi ha fatto il rendering quindi probabilmente manca qualche pezzettino e adesso andiamo a vedere che cosa manca quindi cominciamo a prendere coscienza di quello che è la scene collection la scene collection descrive tutti gli elementi della nostra scena e in questo caso vedete che c'è una camera che è questa questa è la camera che posso selezionare per selezionare liberamente devo fare tab e andare quindi in object mode seleziono la camera poi abbiamo questo che è il tavolo che qui è chiamato cube facendo un doppio clic possiamo anche cambiare di nome tavolo e poi c'è la luce questa che è selezionata lì vedete se noi andiamo sul tavolo vediamo che dentro il tavolo c'è un materiale ecco il materiale sarebbe per l'appunto il nostro il nostro cioè come poi andremo a colorare questo oggetto e il materiale di default lo vediamo cioè il materiale con cui è fatto lo vediamo qui e qui vedremo che c'è un ovimap lo vediamo poi dopo ma soprattutto il materiale propriamente detto e il materiale propriamente detto come vedete ha un colore base che è questo ora per assegnargli una texture che è questa che abbiamo visto dobbiamo cliccare qui sul base color e poi dirgli che vogliamo dare una image texture nell'image texture gli andiamo a prendere o quella se l'abbiamo già caricata ce la troviamo qua nella lista delle texture che è la 113 e a questo punto abbiamo fatto la texturizzazione quindi riassumendo se non è se non è abbastanza chiaro lo rifacciamo un po' dall'inizio quindi facciamo ctrl z ctrl z facciamo un po' di ctrl z per tornare a alla posizione in cui eravamo prima se ci fossimo trovato col tavolo da texturizzare solo così dove potevamo se vogliamo fare proprio uguale uguale al Firestorm e OpenSim dobbiamo andare su questo e poi cliccare sul materiale e sul materiale nel base color dobbiamo fare cliccare sul pallino image texture e qui specificare l'immagine se per caso non l'avevamo ancora caricata potremmo aprirla se magari amplio questa scena vedete che c'è Open andiamo Open e andiamo sul Downloads 0113 0113 e abbiamo caricato l'immagine e però per vederla ricordiamoci di cliccare sull'ultima boccetta qua in alto da scritto shading e così abbiamo esattamente la stessa visuale quindi di fatto questa è la texturizzazione che avremmo visto anche in OpenSim vi ricordate che andava abbastanza bene salvo che appunto potevamo lavorarci poco sopra però questa qui è di fatto la texturizzazione che ci interessa e questa texturizzazione che ci interessa la la teniamo e quando esportiamo cioè se volessimo fare la texturizzazione banale tra virgolette fatta così senza ulteriori senza ulteriori diciamo elaborazione di UVMap quindi per il momento dimenticate un secondo l'UV Editing lo riprenderemo poi nell'elezione successiva comunque quando poi andremo a fare l'export con l'ADA dobbiamo fare export con l'ADA e poi diciamo copy dell'immagine selection only e direi che a volte si mette anche l'apply modifier ma direi che più o meno ci siamo quindi selection only proviamo a esportare ecco qui il trucco sta nell'esportare il il collADA esattamente nello stesso posto in cui avevamo le texture quindi conviene mettere le texture e poi l'export collADA in una cartella che sia sempre quella quindi noi andiamo in downloads dove abbiamo 0113 natural e qui gli salviamo il primo tavolo punto DAE e speriamo di riuscire a salvarlo texturizzato quindi se noi adesso lo facciamo l'export di questo signore e poi andiamo dentro la cartella in cui avevamo questa cosa abbiamo primo tavolo texturizzato DAE che è il grosso 8,54k e che se lo confrontiamo con l'altro DAE che abbiamo appunto DAE che avevamo fatto prima primo tavolo 2 vedete che è parecchio più grosso c'è la differenza fra 1 e 9k e che qua dentro ha segnato anche la texture da usarsi se noi aprissimo in qualche modo il file con l'ADA vediamo che tutto è scritto quindi in realtà qua dentro è possibile vedere cosa dice però qua dentro da qualche parte c'è il nome del materiale c'è la scena ed dovrebbe esserci scritto in teoria anche il vedete che c'è scritto il jpeg ecco library images qua dentro c'è il jpeg allora lui quando è scritto in questo modo in teoria lo prende da questo file e lui si aspetta di trovarlo esattamente dove sta il punto DAE altrimenti non ce la fa quindi se volessimo riprovare a importare il tavolo ora andiamo dentro Firestone facciamo build facciamo upload facciamo mesh model andiamo vedete 113 natural e qui il punto collada è questo open a questo punto quello che succede è che ancora non ci farebbe vedere le le nostre nostre texture perché per vederlo intanto dobbiamo avere una preview delle texture vedete e la texture e poi eventualmente anche delle UV ma questa la vediamo dopo le texture vedete che cliccando su texture ci fa vedere la texture poi magari facciamo come vi ho detto prima use load above e poi però ricordiamoci importantissimo di dirgli di includere le texture quando carica in questo modo riusciamo a evitare di importare il punto collada insieme alle texture se vi ha fatto vedere la texture giusta a quella che vi aspettate qua molto presumibilmente funzionerà altrimenti no ok ricordatevi il livello di dettaglio qua e poi controllate sul preview con control eccetera che vi sembra il tavolo che vi interessava fate calculate weight and fit fate upload e facendo l'upload in realtà vi dovreste ritrovare con un adesso non gli ho cambiato nome quindi l'ha chiamato cube suppongo quindi questo cube se lo prendo e lo rezzo vedete che comparirà già texturizzato la texture ci impiega un attimo ad arrivare ma alla fine arriva quindi ricordiamo facciamo un repilogo dei pezzi che ho fatto già fatto una volta ma lo repiloghiamo quando siete qui il vostro oggetto che non è texturizzato quindi facciamo un control z torniamo all'oggetto che non è texturizzato così quindi nel momento in cui non è texturizzato una volta che avete individuato una texture che potrebbe andare bene e la mettete in una cartella specifica dove poi andrete a salvare anche il vostro collada importantissimo allora a questo punto andate sul selezionate l'oggetto andate sul materiale che è questo specie di biglia andate sul base color che c'è qua cliccate sul pallino gli mettete l'image texture l'image texture se non c'è la aprite open andate nel posto dove avete fatto la cartella gli prendete l'immagine e vedete che a questo punto lui risulta automaticamente applicato anche in questo caso perché che avessi detto che c'è la parte di UV editing la parte di UV editing in realtà la vedremo nel prossimo video che vi permetterà di fare un po' di elaborazione della texture che state usando ci vediamo al prossimo video